Diciamo la verità, quanti a inizio stagione avrebbero ipotizzato tre italiane nelle finali europee? Eppure è andata così, il calcio non finisce mai di stupire. Per la seconda volta il Mondiale Novembre lo abbiamo visto alla TV, ma nelle prossime settimane saremo protagonisti delle sfide che valgono il titolo in Champions, Europa e Conference League. Non accadeva da 29 anni ed è la quarta volta che succede nella storia. Nel 1990 arrivarono tre successi su tre con il Milan in Coppa Campioni, la Samp in Coppa delle Coppe e la Juve in Coppa UEFA. Tornando ai nostri giorni l'Inter che ha sconfitto nel doppio derby il Milan affronterà il 10 giugno a Istanbul in Champions il Manchester City che ha eliminato i campioni in carica della Real Madrid. Inzaghi in campionato era stato messo più volte in discussione, ora potrebbe finire la stagione con un successo stellare. E che dire della Roma di Mourinho che dopo aver vinto lo scorso anno la Conference elimina il Leverkusen e torna in finale in Europa League il 31 maggio a Budapest contro gli specialisti del torneo, gli spagnoli del Siviglia che hanno superato la Juventus. Infine a Praga in Conference il 7 giugno la Fiorentina che ha eliminato il Basilea affronterà il West Ham. Il triste Europa è servito e sognare non costa nulla.